ciao a tutti amici ben ritrovati sul canale oggi chiacchieriamo un po di curiosità di libri ho trovato un video simile sul canale di una margherita tra le pagine e teresa bibucca lula e allora ho pensato di farlo anch'io vediamo un po le mie piccole manie i miei rituali da lettrice se vi incuriosiscono dopo magari fatemi sapere i vostri qui sotto nei commenti allora quando io ho iniziato a leggere partiamo dall'inizio quando ero veramente molto piccola io 45 anni ho cominciato a leggere leggevo tantissimo era una lettrice molto vorace in casa c'erano i gialli mondadori libri di urania di fantascienza i libri di selezione del readers digest che erano tutti dei romanzoni americani saghe familiari eccetera io leggevo tutti questi libri leggevo tutto il giorno poi c'erano le enciclopedie per i ragazzi e allora mi leggevo dalla alla z pagina per pagina mi leggevo tutta l'enciclopedia eccetera mi piaceva molto leggere questo è durato fino all'adolescenza così poi gli impegni lavorativi chiaramente non mi non mi consentivano di leggere ancora tanto allora ovviamente leggevo un po meno però nel tempo libero leggevo ancora tanto poi si sono alternati dei periodi anche abbastanza lunghi in cui non leggevo praticamente niente a periodi in cui leggevo tantissimo eccetera era un po non molto costante diciamo alternavo dei periodi di lettura adesso è un po di tempo che leggo abbastanza costantemente tutti i giorni ma non tantissimo diciamo un'ora al giorno due ore al giorno i miei orari sono principalmente la sera e la mattina anche perché io mi alzo molto presto e allora la mattina riesco a ritagliarmi magari un'oretta anche perché se ti alzi alle 5 alle 6 non è che puoi fare molto in casa per cui magari mi metto a leggere così evito di disturbare siccome dormo poco dunque i libri poi come li catalogo io ho fatto dei dei fogli di excel dove ho catalogato tutti i libri perché fino a due tre anni fa non l'avevo fatto però mi è capitato sia di rileggere dei libri poi a metà mi accorgo che l'avevo già letto perché avendo tantissimi libri magari non mi ricordo quelli che ho letto quelli che no invece adesso me li segno e mi è capitato anche di ricomprare dei libri che avevo già vedo un libro che mi piace e lo porto a casa poi mi accorgo che l'avevo già comprato e allora adesso me li sono scritti perché se no non e ho fatto un catalogo anche dei video che sto realizzando con il voto che ho dato ai vari libri eccetera così riesco anche a non rifare magari dei video che ho già fatto ho tutta la lista dei video me li sono scritti a che libri si riferiscono un vuoto eccetera mi scrivo tutto poi che genere di libro c'è che che tipo che formato di libro leggi io leggo principalmente cartaceo però anche gli audiolibri o anche dei book leggo anche due o tre libri contemporaneamente se sono di genere diverso cioè nel genere per esempio se sono due thriller non riesco a leggerli contemporaneamente perché mi confondo però se sto leggendo un libro magari in lingua originale che è un po difficile da leggere tante volte non ne ho voglia e allora magari ne leggo uno in italiano per intervallare oppure magari sto leggendo un audiolibro perché così lo ascolto magari mentre faccio qualcosa invece la sera leggo il libro col cartaceo eccetera leggo anche più libri contemporaneamente poi presti libri no io non presto le mie cose sono gelosa delle cose non solo dei libri li presto ai miei stretti familiari e mi è capitato dei libri che non mi interessano di darli via magari di regalarli alla biblioteca così ma proprio perché decido di non tenerli più invece prestarli no io li tratto molto bene non faccio le orecchie non ci scrivo non faccio i miei libri sono praticamente nuovi li tratto benissimo e non mi piace prestarle sia perché non tornano indietro sia perché me li rovinano io le mie cose ci sono affezionata non non mi piace non prendo in prestito la roba degli altri non presto la mia poi i luoghi dove leggi principalmente in casa sul divano oppure se sono a letto scrivo sui libri no assolutamente che genere di segnalibri usi dei segnalibri qualsiasi questi sono dei segnalibri che ti danno in libreria ne ho ne ho tanti ne ho diversi mi è capitato di usare magari anche il calendariato della banca quello che capita ecco di solito questi segnalibri qui di cartone che si trovano in libreria come organizzo i miei libri sulle librerie sono suddivisi per genere per autore e poi ho separato quelli che ho già letto da quelli da leggere più o meno sono separati così abbastanza ordinati anche se in realtà ne ho tantissimi io le librerie questi libri piccoli questi se li metti ci stanno anche due o tre libri uno davanti all'altro quindi ho tre file di libri sulla libreria perché è pienissima ne ho veramente migliaia di libri non so più dove metterli leggi più libri insieme sì l'ho già detto prima come organizzo i miei libri l'ho detto come scopri gli autori nuovi se magari vedo un film che è tratto da un libro prendo il libro da cui è tratto oppure mi faccio consigliare da qualcuno che conosco oppure su qualche canale anche qui su youtube se so che hanno dei gusti simili ai miei magari li seguo prendo il primo se non sono sicura magari lo prendo anche in biblioteca e poi se mi piace prendo gli altri libri dello stesso autore prendo libri anche usati ad esempio al libraccio alcuni che non mi interessava più di tenere li ho dati via e niente poi li trovo adesso tante volte li prendo in biblioteca per non comprarne più ma ne ho ancora tanti da leggere in casa bene amici io ho finito saluto sia margherita che teresa fatemi sapere qui sotto le vostre piccole manie se ne avete se avete qualche fissazione io in particolare non ne ho a presto prossimo video ciao grazie per la visione grazie